Terra Amara, Episodi Turchia, Yilmaz apprende che moglie in dolce attesa. Continuano a non mancare i colpi di scena nella soap opera turca Terra Amara. Nel corso delle prossime puntate in programmazione su Canale 5. A mettere il bastone tra le ruote Yilmaz Akkaya, Uğur Gunas, e Züleyi Alton, Ilal Altim Bilek, questa volta sarà Muigane Kimoglu, Melike Ipek Yalova. L'ex meccanico si vedrà costretto ad annullare la fuga con la sua ex fidanzata quando sua moglie gli dirà di essere incinta. A ostacolare la fuga di Züleyi e Yilmaz sarà una rivelazione del tutto inaspettata di Megan. Tutto comincerà quando Akkaya convincerà la sua ex a scappare con lui, per riviversi la loro storia d'amore alla luce del sole una volta per tutte. In particolare l'ex meccanico dopo aver appreso che in realtà Züleyi non ha sposato di propria volontà di Mir, Muratun al Mis, sarà deciso insieme a lei ad attuare un piano di fuga. Mentre si terrà una festa organizzata da Yaman. In particolare Akkaya prometterà alla giovane Alton di essere intenzionato a fare da padre sia ad Adnan che al bambino che aspetta dal marito. Prima di raggiungere la sua ex nel luogo concordato, Yilmaz si recherà in ospedale per mettere fine al matrimonio con Muigane, ma proprio in questa circostanza la dottoressa Muigane spiazzerà Akkaya dicendogli di essere incinta. Quest'ultimo sarà sconvolto per la notizia ricevuta, quindi dovrà rinunciare a lasciare la moglie e darà buca a Züleyi. Non si presentandosi al loro appuntamento. Züleyi, dopo aver aspettato per tre ore il suo ex, parecchio delusa non avrà altra che tornare alla tenuta Yaman insieme al piccolo Adnan. Demir si fiderà ciecamente della moglie, nonostante sua madre Unkar, Vaide Persin, la accuserà di aver tentato di fuggire con Yilmaz, nello specifico Yaman giustificherà l'assenza di Züleyi. Con la convinzione che si sia allontanata dai festeggiamenti per prendere un po' d'aria. Inoltre Demir finirà per entrare in conflitto con la madre e le ordinerà di non intromettersi più tra lui e sua moglie. Intanto Alton, sempre più amareggiata, si chiederà per quale motivo Akaya non abbia rispettato la parola data, l'uomo comunque vorrà darle delle spiegazioni. Servendosi della complicità della domestica Gultentaskin, Selingens. Aia de când mă știu textul-i plin de dude Dumele tante printre tale aculte Încerc flow-uri sute la show-uri buite Cum rup capete lumea de din capă rupte Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi Orice crezi ține pentru tine Fii egoista, liniștit, ci eu scriu rime pentru mine Pentru V-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu Grafărul din toți, o toți MC-ul care am crescut Pe scurt, de la un...